backstage del calendario bellezze venete 2019 con paolo breghetto paolo allora questo calendario quest'anno cosa ci propone ci propone ben 14 mesi 12 mesi più due bonus con tutte le ragazze della regione che sono venute alle selezioni che abbiamo fatto per il tredicesimo anno consecutivo ragazzi che sono infermieri studentesse commesse insomma uno specchio della bellezza della nostra regione ma con delle ragazze io direi della porta accanto ciao sono erica da tre baseleghe ciao sono marta da venezia ciao sono elena dal bignasego ciao mi chiamo leonora e vengo da vicenza ciao sono aurora e vengo da mestre ciao sono alessia e vengo da mestre ciao sono jessica e vengo da schio ciao sono giulia e vengo da taglio di po ciao sono gioia e vengo da stra ciao sono jessica e vengo da monterio a totale paolo c'è anche una finalità benefica sì come tutti gli anni il nostro progetto sostiene la onus quest'anno la padovana lucrametto onus che si occupa della ricerca sul bio blastoma grazie buongiorno mattino buongiorno mattino la bellezza venete